Siamo alla fiera Milano Sposi dove la stilista Dolores Tommasi presenta la sua collezione 2013. Sì, questa collezione ha l'insegna del romanticismo e semplicità. Ho pensato a dei tessuti leggerissimi, ampi, tante gonne ampie con diversi strati sovrapposti, pannelli, vaporosi. Quali sono i tessuti che preferisci utilizzare nel creare le tue collezioni? Allora, quest'anno ho pensato alla leggerezza, quindi organza, bué saten, tulle, tanti strati sovrapposti di tulle, pizzi leggerissimi. Andiamo dal pizzo chantilly, leggero, con delle piccole punti luce, con delle cristalli, cristalli luminosi per dare luce al viso. Come ogni anno una collezione di abiti da sposa sceglie dei colori particolari, delle nuance con cui giocare. Tu quest'anno che cosa hai scelto? Quest'anno ho pensato alla primavera, quindi il verde salvia, le varie sfumature del rosa. Ogni anno mi piace giocare con un colore. Il verde non l'avevo mai usato e vedo che comunque sta bene indossato, lo sto indossando anch'io, quindi qualsiasi carnagione va bene anche col verde, quindi sfatiamo questo mito. Come sono le spose di Dolores Tomasi? Le spose che mi scelgono sono spose che amano la qualità, la qualità nel dettaglio, avere un abito unico e personalizzato, perché ogni abito della mia collezione poi viene rienterpretato dalla sposa, perché ogni sposa ha il suo sogno, quindi sempre rimarchiamo il fatto che ogni sposa deve essere unica. Musica 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 We don't even have to try, it's always a good time It's always a good time We don't even have to try, it's always a good time